e lui ha iniziato a fare intanto la doppia stream la gente che stava nella sua live su youtube era circa 1700 tra i 1700 e i 2000 spettatori ok e tutta la gente in chat su youtube scriveva che bello finalmente posso guardarmi una live senza essere interrotto ogni 10 minuti da 5 minuti di pubblicità e questo è un fenomeno importante se piano piano tutti gli streamer da twitch per questo motivo cominciano a spostarsi questo è pericolosissimo per twitch però è un segno di come le politiche di twitch abbiano effettivamente rotto i coglioni c'è veramente poco da fare finché queste politiche vanno a rompere i coglioni a me o ad altri piccoli come me non cambia niente possiamo solo lamentarci ma sicuramente twitch nemmeno si girerà a sentire le nostre lamentele ma quando cominciano gli streamer grossi grossi a lamentarsi e a guardarsi altrove allora lì sì che la situazione cambia molto per una piattaforma come twitch perdere uno o più streamer che ti fanno dai 5 6 10 mila spettatori in su ogni live chiaramente diventa diventa un problema quindi se gli streamer grandi cominciano ad allontanarsi dalla piattaforma questa cosa risulta essere poi vantaggiosa anche per i piccoli perché dico questo? perché la piattaforma se comincia a vedere che i grandi se ne vanno per appunto le problematiche relative alla politica pubblicitaria di twitch è chiaro che twitch a quel punto dovrà adottare delle contromisure per evitare di perdere queste persone questi streamer grossi sono in grado di smuovere twitch sono in grado di far dire a twitch oh fermi tutti che cazzo sta succedendo qua? ok l'abbiamo cagata abbiamo esagerato con le pubblicità se ne stanno andando tutti e questo per twitch significa correre assolutamente in emergenza anche in tempi rapidi ai ripari e questi ripari potranno essere vantaggiosi anche per noi piccoli noi piccoli purtroppo non possiamo fare un cazzo di noi piccoli a twitch non gliene frega un cazzo non gliene mai fregato un cazzo e continuerà a non fregargli un cazzo e lo si vede proprio anche per la politica che twitch non ha riguardo ai canali emergenti non hanno mai pensato ad esempio di fare una sezione una vetrina in un page dove metti soltanto i canali piccoli che hanno da 0 a 10 spettatori ok? così da far conoscere magari gente nuova non l'hanno mai fatto cosa che invece ad esempio Kik ha tuttora e questo aiuta alla community alla gente che guarda aiuta a trovare gli streamer nuovi questa cosa twitch non l'ha mai fatta e tuttora non c'è e sembra anche che non gliene freghi neanche un cazzo di farlo perché a loro interessa quelli grandi di quelli piccoli a loro non frega un cazzo deve cambiare qualcosa deve cambiare qualcosa cambierà dal momento in cui questi grandi adesso stanno cominciando a spostarsi o quantomeno alcuni si sono già spostati altri stanno assaggiando il terreno e insomma voglio dire il fatto che i grandi grandissimi internazionali stiano pensando di andare su youtube anche solo pensare anche il solo pensare di andare su un'altra piattaforma ok farà scattare nella nell'amministrazione di twitch qualcosa quantomeno se non sono completamente deficienti dovrebbe fargli scattare qualcosa fargli capire che oh qua la situazione non sta andando bene le nostre politiche evidentemente non non vanno bene la gente è scontenta e se la gente è scontenta come è giusto che sia se ne va per ora la situazione è ancora questa però ripeto sono fiducioso perché quando si muovono i grossi alla fine twitch si caga addosso e deve e deve correre deve correre i ripari e di conseguenza questi ripari probabilmente saranno vantaggiosi anche per noi non vantaggiosi